e realizzare un sistema automatico di acquisizione clienti. Ciao, sono Matteo Rapparini, benvenuto a questo corso online dove ti insegnerò come acquisire in automatico clienti. Nella mia esperienza web, ormai risalente a oltre 12 anni fa, ho potuto sperimentare direttamente le virtù dell'acquisizione automatica di clienti. Anche per te che non sei un esperto di web marketing e che sei alla ricerca di nuovi strumenti per sviluppare le vendite, ho delle buone notizie. La prima buona notizia è che puoi realizzare in maniera autonoma un sistema di acquisizione contatti in modo tale da non dover dipendere da un consulente, ma gestire da solo quelle che sono le tecniche più efficaci. La seconda è che puoi testare continuamente ciò che fai, modificando i budget, le parole chiave, il messaggio e molto altro, di ogni mezzo che riterai utile alla tua causa. La terza buona notizia, beh, è proprio quella, potrai iniziare subito dopo questo corso ad acquisire nuovi clienti, ma devi fare attenzione. Non è oro tutto quello che luccica, infatti se vai su Google e cerchi informazioni e argomenti inerenti al marketing automatico, troverai decine se non migliaia di pagine, blog, siti web, alcuni dei quali ben organizzati e ricchi di spunti da prendere in considerazione. In mezzo a tutta questa giungla farai un po' fatica a trovare cose veramente utili, perché probabilmente non riuscirai a capire come applicare i concetti così brillantemente esposti alla tua realtà professionale. Per questo motivo ti porterò direttamente la mia lunga esperienza in ambito web marketing, sono oltre 13 anni, per aiutarti ad evitare di fare alcuni errori che ho commesso e per fornirti poi le dritte giuste che invece ho applicato con successo. Partiamo dalla BC. Innanzitutto per creare un sistema automatico di acquisizione dei clienti occorre definire tre aspetti. Modalità di acquisizione contatti, modalità di raccolta email e modalità di gestione dei contatti. Vediamo ora la modalità di acquisizione dei contatti. L'automatismo parte fondamentalmente dalla necessità di avere un sito web. Da qui non ci si scappa. Potresti anche avere solo una landing page, la cosiddetta pagina di atterraggio dove cadono, dove atterrano i tuoi visitatori, dove appunto il visitatore atterra e dove a fronte del suo interesse deve lasciare la propria email. Più avanti nel corso ti farò vedere alcune landing page efficaci e come massimizzare il rapporto numero visitatori e numero email raccolte fornendo gadget, omaggi, eccetera. L'acquisizione del traffico sul tuo sito internet avviene essenzialmente in due modalità o gratis o a pagamento. Gratis, grazie al posizionamento nei motori di ricerca, in particolare su Google e YouTube, posizionamento del tuo sito web. A pagamento, mediante inserzioni pubblicitarie su Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, banner oppure iscrizioni a web directory specifiche settoriali. Il posizionamento sui motori di ricerca è una tecnica che richiede tempi lunghi, l'acquisizione di traffico a pagamento è la soluzione da prendere subito in considerazione. Quindi il primo concetto che ti voglio fornire per acquisire in maniera efficace nuovi contatti in maniera automatico è quello di acquisire traffico web a pagamento. L'acquisizione di traffico web a pagamento crea di per sé già una domanda. Qual è per il mio business lo strumento più opportuno al fine di creare un elevato numero di contatti con potenziali clienti? Tra poco ti darò la risposta, ma prima fammi fare una considerazione. Ad oggi i media web dove intercettare potenziali clienti sono essenzialmente tre. Google, YouTube e Facebook. Google va bene sia per il business to business che per l'ambito consumer, come YouTube. Facebook invece è più orientato e più adatto per chi opera in ambito consumer, quindi consumatore finale. Questi tre mezzi sono molto diversi e rispondono a esigenze diverse, ma sono complementari tra di loro. Per la mia esperienza e per quella di molti imprenditori, Google è l'elemento cardine su cui impostare l'acquisizione di clienti. Questo perché chi cerca il tuo prodotto, il tuo servizio o informazioni correlate ad essi, in prima battuta va su Google. Poche storie. Google rappresenta nel breve periodo l'acquisitore di potenziali clienti più efficace. Occorre ricordare che vi è una profonda differenza fra l'utente di Google e quello di Facebook. Mentre l'utente di Google è alla ricerca di informazioni sul tuo prodotto o servizio, quello di Facebook invece è online per caffeggiare fondamentalmente con gli amici. Questo ha un impatto molto importante sull'efficacia della pubblicità. Infatti, mentre su Google è l'utente già pronto per acquistare, su Facebook non lo è, anzi tutt'altro. E già da questo aspetto è possibile valutare come gli obiettivi degli investimenti fatti su entrambi i mezzi siano per forza diversi. Non può infatti pensare di acquisire contatti con Facebook e trasformarli in clienti nel giro di poco tempo. Invece questo è un obiettivo che è facilmente raggiungibile con Google. Vediamo ora i criteri per cui preferire Google a Facebook e viceversa. E partiamo da un ipotetico prodotto X. Allora, la prima cosa da fare è verificare su Google il volume di ricerca del prodotto X. E questo è possibile farlo attraverso lo strumento di pianificazione delle parole chiave all'interno dell'account di Google AdWords. Non è sede questa di spiegarti come funziona, comunque eventualmente puoi trovarlo in internet. E quindi attraverso lo strumento di pianificazione delle parole chiave puoi individuare se vi è una domanda per il prodotto X e la quantità di ricerche su Google.it. Fatto questo, puoi decidere o meno di investire su Google AdWords con la consapevolezza che gli utenti che intercetterai sono in una fase avanzata del processo di acquisto. Passiamo invece adesso a Facebook. La domanda è, qual è il target che potrebbe essere interessato al prodotto X? Infatti su Facebook è possibile associare l'inserzione agli utenti selezionati per differenti criteri località, età, interessi, professione, abitudini, ecc. Se il prodotto X è potenzialmente utilizzato, ad esempio, da chi viaggia è possibile impostare una campagna pubblicitaria presso tutti coloro che nel loro profilo hanno descritto che amano viaggiare o che hanno cliccato sul mi piace di pagine dedicate ai viaggi. In tale modo posso entrare in contatto con potenziali clienti che però non stanno ricercando il prodotto X ma potrebbero ricercarlo nel futuro. Non mi devo aspettare un effetto immediato sulle vendite ma probabilmente nel tempo l'acquisizione di contatti, cosiddetti leads, potrà generare profitti. Ti riassumo quindi i criteri di scelta nel fare la pubblicità su Google o su Facebook o su entrambi e le percentuali del budget da investire nell'uno o nell'altro mezzo. Allora, il tuo obiettivo è generare nel breve periodo delle vendite. In questo caso devi scegliere AdWords di Google al 100% e mettere tutto il budget qua sopra. Se invece il tuo obiettivo è generare dei contatti profilati con email allora ti consiglio di utilizzare il budget per il 40% su Google e il 60% su Facebook. Se invece il tuo obiettivo è fare conoscere il prodotto e servizio a maggior numero di potenziali clienti in un tempo ragionevole allora il budget, secondo la mia esperienza, lo devi allocare 70% su Facebook e 30% su Google. Passiamo quindi al secondo step cioè la modalità di raccolta email una volta acquisito il visitatore quindi che il visitatore è giunto sul tuo sito web devi indurlo a lasciare la propria email sul tuo sistema automatico di acquisizione. Il sistema automatico di acquisizione sarà poi quel sistema che tu andrà a impostare per inviare N email vedremo dopo quante email sarà necessario inviare al potenziale cliente per indurlo all'acquisto e per fare questo dovrai fornirli un regalo, un omaggio che andremo a vedere successivamente di che cosa si tratta. Come sistema automatico di acquisizione e di gestione automatizzata delle mail io utilizzo getresponse.com una suite molto affidabile, performante, economica e soprattutto molto semplice da utilizzare. Quindi il primo step su getresponse.com è quello di creare una campagna pianificare successivamente gli autoresponder cioè le mail automatiche e per pianificare intendiamo sia la periodicità che i contenuti quindi definire il modulo di acquisizione dati e incollarlo attraverso un codice che getresponse ti generi in automatico nella tua pagina web che hai scelto come landing page. A questo punto il discorso si fa interessante perché dovrei parlarti anche di come realizzare una landing page che massimisi l'acquisizione di nuovi contatti però non preoccuparti ti fornirò anche queste informazioni più avanti però adesso passa al secondo modulo per imparare a utilizzare getresponse.com Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.